Un programma in collaborazione con Recanati ha accolto la terza edizione di Fino alla fine Festival del Sapervivere Alfa Omega, le stagioni della vita Dal 9 all'11 ottobre la città dell'Infinito ha ospitato un percorso di riflessione di formazione e di espressione artistica sulle varie fasi della vita inclusa l'ultima Il movimento Hospice Marche Associazioni Denti si sono uniti per organizzare insieme questo festival che ha coinciso nella giornata di sabato 10 ottobre con la giornata mondiale Hospice Le cure palliative sono definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come l'attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito della persona Nelle cure palliative il controllo del dolore degli altri sintomi e dei problemi psicologici sociali e spirituali è di importanza fondamentale Esse si propongono di migliorare il più possibile la qualità di vita sia per i pazienti che per le loro famiglie Ogni secondo sabato di ottobre tutto il mondo si unisce per realizzare un unico obiettivo portare a conoscenza che esiste un altro modo per accostarsi al fine vita Per l'occasione la sede del festival è stata collegata via streaming alla rete di altri eventi che si sono svolti in ogni angolo del globo Nella nostra regione esistono otto hospice L'hospice è un luogo di accoglienza e ricovero temporaneo nel quale il paziente viene accompagnato nelle ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico psicologico e spirituale affinché le viva con dignità nel modo meno traumatico e doloroso possibile Il primo hospice moderno fu fondato in Inghilterra da Cecile Sanders medico inglese nel 1967 a Londra il San Christopher Hospice Quando la pioniera degli hospice morì nel 2005 esistevano più di 8000 hospice in tutto il mondo Iris Marques Pinto è il direttore artistico del festival Saper vivere fino alla fine terza edizione Re Canati lo scenario ideale per ospitarla laboratori mostre e convegni interessanti Sì e poi tutto collegato con il segno dell'infinito non poteva essere che Leopardi la sede migliore che ci ha ricevuto molto bene ci ha dato tanti spazi sparsi in tutta la città e una lezione spettacolo meravigliosa storica di Mauro Mario Mariani e degli interventi molto belli di Carlo Brunori di Maurizio Bonsignori la consegna del premio a Sergio Giorgetti a Elmo Santini un pubblico bello un pubblico bellissimo che ci ha dato questo onore di poter condividere con loro questo momento di riflessione e di condivisione della bellezza Ecco condivisione questa è la parola chiave del mondo delle istituzioni del mondo delle università del mondo del volontariato del mondo medico insomma per portare alla luce questo questo grande fenomeno che sono le cure palliative e poi quello che si fa negli ospici insomma argomenti importanti ancora da dover divulgare Sì Barbara anche grazie al tuo aiuto dandoci questa mano importante è riuscita insieme alle associazioni a mettere insieme dei rappresentanti delle università delle marche di Ancona di Camerino dei responsabili di vari ospice delle marche il coordinatore della società italiana di cure palliative questo regalo che ci hanno fatto dal ministero della salute di dare il patrocinio il patrocinio della regione quattro rappresentanti della regione mai visto una cosa del genere cioè quattro degli interventi super partes di tutti i partiti della regione erano presenti e hanno detto la loro sulle cure palliative sul saper vivere fino alla fine in tutte le stagioni sulla nascita sull'adolescenza anche sul fine vita dunque questo è stato un traguardo il terzo questa terza edizione veramente ci ha portato molto bene la giornata inaugurale si è aperta con il saluto delle autorità prima e fra tutti il sindaco della città di Recanati Francesco Fiordomo gli assessori servizi sociali Tania Paoltroni alla cultura Rita Socio a portare il saluto della regione l'assessore Angelo Sciapichetti e i consiglieri regionali Francesco Micucci Luca Marconi e Sandro Bisonni la massiccia presenza degli organismi regionali ha confermato che la politica non può e non deve trascurare questi delicati argomenti che riguardano la dignità della vita umana non rappresenta solo un prestigio avere nella commissione del premio Movimento Hospice Marche 2015 la presenza dell'Università Politecnica delle Marche per gli organizzatori ciò testimonia la volontà come dichiarato anche dal professor Sauro Longhi rettore dell'università di occuparsi della formazione del palliativista figura che opera anche negli hospice questa terza edizione del festival ha visto la presenza anche di Unicam Università di Camerino con la partecipazione del prorettore professore Andrea Spaterna che ha parlato di cure palliative ricordando l'origine del termine pallium mantello che protegge chi lo indossa questo tipo di trattamenti agiscono infatti prendendosi cura globalmente della persona presente all'incontro anche il presidente onorario del festival Maurizio Bonsignori oncologo fondatore dell'OIOM Istituto Oncologico Marchigiano Carlo Brunori medico coordinatore della società italiana delle cure palliative delle Marche responsabile scientifico del festival lui ci ha parlato di questo particolare mondo in questa giornata si sono trattati importanti tematiche quelle relative al fine vita ma anche al vivere e alle cure palliative insomma argomenti che interessano quotidianamente la vita dell'uomo sì le cure palliative lo ribadisco per l'ennesima volta sono cure rivolte al malato con patologie inguaribili quindi patologie inguaribili oncologiche ma anche non oncologiche patologie inguaribili nell'adulto ma anche in ambito pediatrico quindi anzi in ambito pediatrico la percentuale di bambini che necessitano di cure palliative è molto più alta nel settore non oncologico che nel settore oncologico quindi anche i tempi di cura non sono più i tempi che avevamo quanto le cure palliative sono nate quindi cure palliative rivolte al malato oncologico terminale ma nel momento in cui ci si affrontano problematiche non oncologiche i tempi sono molto molto più lunghi quindi ribadisco il concetto che ribadisco in tutte le sedi un messaggio di vita un messaggio di qualità della vita quindi le cure palliative che vogliono star vicino al paziente che ha la malattia inguaribile e alla famiglia per cui il cuore palliative quindi pallium il mantello di San Martino che accoglie a 360 gradi il paziente e la famiglia quindi un messaggio di migliorare la qualità della vita come attraverso il controllo dei sintomi il controllo dei sintomi ovviamente spesso e volentieri il sintomo dolore anche nelle cure palliative la fa da padrone però non è l'unico sintomo che dobbiamo affrontare i sintomi che bisogna della qualità della vita sono tanti e vanno affrontati con competenza la regione Marche ha recepito quello che la legge 38 sull'accesso alle cure palliative e le terapie del dolore ci ha imposto di fare quindi è una legge che nel resto dell'Europa ci invidiano perché è fatta molto bene tant'è che la comunità europea ci ha chiesto di poterla tradurre per proporla a quegli stati della comunità europea che non hanno ancora una legge quadro come la nostra la regione Marche ha recepito le direttive della legge 38 adesso si tratta di mettere in atto queste che sono le tre reti cliniche che sono previste quindi rete clinica di cure palliative per l'adulto rete clinica e terapia del dolore per l'ambito pediatrico e la rete clinica della terapia del dolore questo sarà il terreno in cui dovremo confrontarci in futuro perché ci vogliono uomini e mezzi quindi risorse umane e risorse anche tecnologiche per far fronte a questa richiesta di aiuto da parte delle famiglie insomma quest'anno la commissione del premio Movimento Hospice Marche 2015 ha deciso di conferire il premio a due soggetti che si occupano di portare avanti in modo diverso e complementare gli obiettivi dello stesso movimento il dottor Sergio Giorgetti responsabile dell'Ospice di San Severino Marche ed Elmo Santini presidente dell'associazione Maruzza Regione Marche per le cure palliative pediatriche Dottor Sergio Giorgetti responsabile dell'Ospice di San Severino Marche oggi premiato con questo grande riconoscimento da parte del Movimento Hospice insomma c'è tanto lavoro da fare ma molto è stato anche fatto nella nostra regione grazie a strutture e professionalità come la sua è una grande emozione questa cosa perché comunque premia in qualche maniera un lavoro fatto negli anni tanti anni tanto impegno tanta volontà ma soprattutto volevo ricordare non solo io ma soprattutto tutto il gruppo che sta con noi dalle persone dai volontari che danno qualcosa in più insomma all'interno del reparto alla infermiera ios l'aromaterapeuta che per noi è una cosa fondamentale la psicologa l'assistenza sociale insomma tutte le figure veramente tutte le figure che partecipano da soli questo tipo di lavoro non è possibile non si riesce perché è troppo grande il mistero che ci avvolge è verso il quale noi dobbiamo andare e quindi bisogna essere in tanti bisogna essere sempre in movimento perché dobbiamo sempre aggiornarci dobbiamo sempre dare il meglio e essere attenti alle persone e oggi è stato importante anche il confronto tra le diverse realtà che operano nelle Marche tutti con la stessa filosofia sì siamo un bel gruppo è un bel movimento che sta avendo fuori che è il movimento hospice delle Marche e diciamo che anche nella nostra regione insomma questo nonostante sia un movimento che è nato da alcuni anni però è questo che dà la forza insomma anche per combattere contro spesso le burocrazie che ci portano lontani insomma dai bisogni dagli interessi dei pazienti che poi è il nostro è il nostro input maggiore questo insomma cioè non possiamo fare dire di fare medicina se perdiamo di vista i bisogni delle persone recentemente ho vissuto un'esperienza personale che volevo condividere con voi ho assistito personalmente una persona che si è malatta di cancro e ho partecipato con lei anche a tutto il calvario che poi deve proseguire proprio ero il caregiver era quello che lo aiutava allora mi sono trovato un'immagine davanti a insieme a questi pazienti però non con le camici ma dall'altra parte e allora quando sei in queste situazioni capisci che non tutto puoi spiegare che non tutto si definisce con le parole perché c'è comunque un'anima uno spirito che ci dà e dà la forza ai pazienti per andare avanti e questo deve essere riconosciuto tanto quanto la scienza medica Elmo Santini presidente dell'associazione Maruzza ha ricevuto oggi questo premio a testimonianza del lavoro svolto dall'associazione che lei presiede e per portare avanti il discorso delle cure palliative in pediatria in pediatria perché è la prima iniziativa del centro Italia e noi ci teniamo perché purtroppo se è vero che quando sta male un adulto sono problemi quando sta male un bambino è devastante perché la famiglia si divide in quanto diciamo non essendoci nessun centro nel centro Italia ma dovendo andare fuori quindi la famiglia comincia a separarsi poi non parliamo se c'è un altro bambino perché quello si sente abbandonato poi abbiamo dei casi che ci troviamo dei bambini che diciamo loro stanno bene ma i fratelli ammalati addirittura comincia a dire la nostra famiglia non è più insieme abbiamo avuto dei casi addirittura dove un bambino ha detto la mamma non c'è più perché magari la mamma era fuori cioè noi abbiamo quindi è importante che la regione avvii questo processo perché intanto fa risparmiare 21 milioni di euro all'anno alla sanità regionale togliendo la sanità passiva potremo attivare anche la sanità attiva in quanto in Emilia Romagna non c'è in Umbria non c'è in Abruzzo non c'è ma soprattutto alle nostre famiglie evitare questi viaggi dolorosi e soprattutto anche devastanti dal punto di vista economico perché sono cure che vanno alla lunga e i viaggi costano e pesano sulle famiglie che sono giovani tra l'altro sono moltissime famiglie lei ha dato un dato quest'oggi 262 famiglie che abbiamo accertato tramite i vari pediatri che devono diciamo periodicamente andare fuori quindi uno dei due perde il lavoro perché andando fuori perde il lavoro e poi soprattutto ci sono anche dei costi economici terribili e questo alla fine porta diciamo a problemi in famiglia perché poi comincia le discussioni le lotte le crisi le famiglie vanno in crisi quindi oggi di fronte anche ai politici locali lei ha chiesto fortemente che possa essere appunto aperto un centro di pediatria di cure palliative nella nostra regione sì perché la legge 1285 del 17 novembre 2014 già lo prevede queste sono state deliberate il problema è dire dove noi abbiamo indicato titolo indicativo perché per me che si faccia va bene in qualsiasi punto della regione per carità via i campanilismi noi abbiamo detto che a Fano c'è pediatria che è stata chiusa quindi il reparto è completamente vuoto quindi pronto e disponibile c'è una fondazione cassa di risparmio di Fano che è disponibile a intervenire nelle spese quindi per la regione secondo noi non c'è più alibi e occorre agire molto spazio nel festival hanno avuto i collage concettuali corali luoghi di confronto tra persone diverse uno spazio particolare è stato riservato al teatro con uno spettacolo allestito dal gruppo di teatro dell'hospice di Borgo Palazzo di Bergamo presenti al festival anche le mostre di laboratori al festival del saper vivere tante sono le mostre tanti anche gli appuntamenti culturali siamo con Valentino Giampaoli scultore docente di liceo artistico e dunque una performance particolare la sua sì da anni faccio una ricerca sugli archetipi della scultura che diciamo per la sua essenza è legata proprio alla tematica anche del festival in quanto arte dei sipolcri mi interessa di queste forme in particolare la colonna e la porta che sempre ho elaborato della dimensione del sacro che ci sovrasta di qualcosa che viene da lontano qualcosa che temiamo e di cui siamo affascinati di questa dimensione altra di questa cosa che non riusciamo a percepire mi piace giocare con le mie forme e lasciarle hanno un'interpretazione abbastanza libera poi ognuno ne trae le sue conclusioni il tipo di materiale sceglie? sì la pietra in questo caso ho portato solo lavoro in pietra e su questo diaframma il passaggio quindi porte e varchi aperture e passaggio appunto in tema con il festival e la pietra proprio perché è questo materiale a cui viene consegnato il testimone di perdurare di tramandare nel tempo gli altri laboratori accolti nel festival sono stati la fototerapia l'arte terapia lo yoga il massaggio per genitori e bambini piccoli fino alla cucina naturale certi che per vivere bene serva anche nutrirsi bene per affrontare la tematica della nutrizione nell'anno dell'expo mondiale sono intervenuti Gerlando Davide Schembri medico chirurgo esperto in nutrizione direttore sanitario dell'Aves di Fano e Mauro Mario Mariani medico chirurgo specialista in angiologia autore di numerose pubblicazioni scientifiche ed ospite di importanti trasmissioni televisive i due medici hanno affrontato il tema mangiare bene e vivere bene fino alla fine Gerlando Davide Schembri è medico chirurgo esperto in nutrizione direttore sanitario dell'Aves di Fano oggi ha parlato al festival del saper vivere mangiare bene e vivere bene fino alla fine questi argomenti trattati argomenti interessanti che riguardano ognuno di noi in tutti i giorni dell'anno assolutamente in tutti i giorni dell'anno e in tutte le fasi della vita quindi quando siamo piccoli da adulti uomini donne nella malattia e anche nelle fasi terminali della vita l'alimentazione permea tutta la nostra vita e in medicina quando noi parliamo di prevenzione primaria sul sano parliamo di prevenzione secondaria terziaria in persone che sono malate l'alimentazione può allungare i tempi di salute può in un paziente malato ridurre i tempi di malattia e in un paziente gravemente malato può ritardare il decesso e far vivere quindi nell'ambito delle cure palliative che sono anche quelle malattie che sono inguaribili ma curabili può essere veramente quel pallium quel mantello di cui si parla spesso nell'ambito di queste terapie sono argomenti che ci riguardano tutti però a volte è così difficile fare una corretta alimentazione seguire quelle regole che più o meno tutti noi più o meno sappiamo però è difficile metterle in pratica è difficile metterle in pratica perché spesso le informazioni sono contrastanti questa è la prima cosa e la seconda cosa è che spesso ma questa è una caratteristica dell'essere umano tutto quello che è una novità ci spaventa e invece potremmo riscoprire che quello che è una novità alle volte e spesso ci prendiamo è quello che è stato fatto dai nostri avi e che succedeva in passato con l'aggiunta di nuove informazioni che invece sono molto più facili e molto più applicabili di quanto sembra fare la spesa guardare l'etichetta è per la prima volta una rottura ma poi diventa una cosa naturale e quindi diventa un'abitudine e non lo è più come guidare se dovesse dire un cibo sì e un cibo no quale sceglierebbe? allora se dovessi dire un cibo no gli affettati se dovessi dire un cibo sì la frutta la verdura i legumi un altro cibo no sono i prodotti industriali in genere che sono veramente il degrado culturale e della nostra salute quindi scegliere informarsi e poi come diceva anche il dottor Mariani insomma avere metodo avere metodo e assolutamente applicarlo e quando si va a fare la spesa nel supermercato evitare gli scompartimenti centrali che sono quelli dove ci sono i prodotti industriali e fare il giro intorno perché il vero cibo è attorno il pesce la frutta la verdura se ci fate caso è sempre intorno Mauro Mario Mariani apprezzatissimo dal pubblico del Festival del Saper Vivere quest'oggi insomma un decalogo su cosa bisogna mangiare quello che ci fa male tornare all'alimentazione naturale il tau dell'alimentazione il cibo non è mai zero o nutre è tau bianco o cintossica è tau nero quindi parafrasando questi giochi in voga fra gli adolescenti sono papà di due adolescenti farsi le vite caricarsi le vite mangiando bene come si mangia bene? mangiando la frutta poco e spesso lontano dai pasti modulando gli zuccheri perché lo stesso frutto a fine pasto è un carico glicemico è pro infiammatorio mentre lontano dai pasti ci dà delle difese mangiando un bel piatto di insalata prima di iniziare il pasto magari anche dopo se l'abitudine ti porta a farlo ma prima ti dà gli antiossidanti che altrimenti dopo andrebbero persi nella digestione dei cibi complessi ti dà gli enzimi per digerire e soprattutto inibisce le macromolecole che arriverebbero in un'alimentazione sbagliata e sballata quindi difendersi dal Tao Nero dai cibi industriali da tutto quello che dura più della logica quello che è innaturale perché un salame si fa con un maiale che cresce su queste belle montagne marchigiane almeno 12-18 mesi non con qualcosa che gira in una giostra per 6 mesi in un capannone mangiando cibi artefatti e poi ci mettiamo nitrati nitriti addirittura l'aroma al sapore di salame perché quel salame figlio di quel maiale non sa di salame e allora se noi non interrompiamo questa logica a pagarne le conseguenze sono i nostri figli oggi già sappiamo che il primo grasso presente nei diabetici è il palmitato cos'è il palmitato? è il figlio dell'olio di palma questo olio che viene dall'oriente che si trasforma industrialmente ossidandosi e che è presente in tutti i cibi confezionati quindi o si diventa attenti lettori delle etichette perché dal 14 dicembre 2014 le etichette sono in chiaro oppure non si mangia più cibo industriale noi marchigiani che vantiamo 504 nonni centenari siamo la prima regione al mondo per longevità nell'occidente ci batte solo un'isola del Giappone dobbiamo difendere quello che loro sono stati perché già io che sono nato negli anni 60 non penso che manterò questa longevità ma sono sicuro per le informazioni che abbiamo oggi che chi ha oggi 10 anni difficilmente arriverà anche a 80 anni conoscenza consapevolezza e metodo soprattutto metodo perché è inutile comprare il prezioso olio extravergine di oliva premuto a freddo se poi quest'olio lo mettiamo in un'ambientazione disordinata non solo nella qualità ma anche nella quantità perché io non sono integralista e favorevole in assoluto a una dieta vegana però la dieta mediterranea quando non c'era il frigorifero è stata la dieta più vegana del mondo vegan significa non mangiare cibi animali e derivati ma io sono per la dieta mediterranea che dice il pesce certo si è prezioso ci sono l'omega 3 quando lo peschi il pollo si quando lo acchiappi lo spegni e poi lo cucini allora tutto questo se noi lo recuperiamo e lo riproponiamo tornerà ad essere un modello vincente per i nostri figli il cibo è la nostra cura ma anche la nostra intossicazione troppa intossicazione troppi metalli tossici già pensate nella raffinazione delle farine si usa il cadmio o l'alluminio pensate che nella zona più industriale della ceramica d'Italia si utilizza ancora piombo e quindi questo poi si riflette sulle coltivazioni ma soprattutto sugli allevamenti il latte della bassa padana spesso contiene quantità di piombo tutto questo è un mondo molto particolare che però deve essere concepito prima che ci sia mali perché queste cose a me le hanno insegnate i miei pazienti i miei pazienti sono stati i miei libri sono un angiologo sono specialisti in malattie vascolari perché l'angiologo diventa mangiologo perché il cibo cura l'equilibria sostiene rafforza e depura solo se scelto solo se scelto perché noi non scegliamo più ma poi lo combiniamo nel modo giusto e oggi è il festival del sapervivere questo festival che inneggia la vita insomma questo discorso c'è entrato molto è stato molto bello è una grande emozione essere qui diciamole degli spettatori la mia relazione è iniziata alle 20 è proseguita fino alle 21 e 30 con tante persone rimaste fino alla fine proprio per godere non tanto delle quattro cose che so ma di questo momento di scambio che è stato non solo di sguardi e di sorrisi ma anche di tante tante emozioni un programma in collaborazione con di scambio di scambio di scambio di scambio di scambio di scambio